Buongiorno e benvenuti alla ressegna stampa di oggi. Oggi è il primo di febbraio 2021, iniziamo una nuova settimana, iniziamo un nuovo mese, allora vediamo che cosa e come partiamo, partiamo con il santo, il santo del giorno, con il tempo, le previsioni del tempo di oggi e poi insomma vedremo i titoli. Oggi è Santa Brigida d'Irlanda, una santa che è molto amata, il sole sorgerà alle 7.28 e tramontarà alle 17.19 minuti. Allora adesso andiamo a vedere il tempo. Il tempo per la giornata di oggi, avremo precipitazioni nella prima parte ma soprattutto al sud, un po' di pioggia ancora al sud, attenzione alle gelate diffuse durante la notte al primo mattino, domani lo stesso cielo sereno o poco nuvoloso, ecco qua la previsione per domani della protezione civile delle Marche con gelate diffuse anche durante la notte al primo mattino, poi comunque sarà una settimana caratterizzata dal bel tempo. Allora c'è lo sport in primo piano, facciamo subito i complimenti alla squadra marchigiana di volley, di pallavolo, la Lube Civitanova che ha vinto e dunque si è giudicata la Coppa Italia di pallavolo. Ma c'è anche lo sport del lunedì, oggi con la prima pagina del resto del carino di Pesero che riguarda purtroppo il colpaccio mancato della VL nella massima serie di pallacanestro, VL peccato, Pesero arriva a più 10 a 7 minuti dalla fine, poi Venezia ribalta tutto quanto. Fanno Grosseto, il titolo del carino di Pesero, la strada degli sprechi, l'incompiuta e quel progetto approvato, pagato un milione e mezzo dall'ANAS ma chiuso in un armadio. Aguzzi contro il sindaco di Pesero, Ricci, comune regione, battaglia senza fine ma dice Aguzzi, Ricci esagera. Poi a San Lorenzo un dipinto sparito finisce nella trasmissione. Chi l'ha visto? Tamponi rapidi a 15 euro, si possono fare in farmacia, facciamoli, dice e propone Pieri di Aspes. Zona gialla, da oggi c'è anche chi resta chiuso, oggi dunque meno restrizioni, mentre sul Nerone arrivano per la ciaspolata, tensione con i vigili e soprattutto fuggi fuggi. Generale, Vispesero a fare fatto, arriva Germinale e poi Fano, Barbuti, non basta per il colpaccio, l'attaccante porta avanti Granata, il Padova rimonta e poi resta in 10. Vedremo poi alla fine il risultato, comunque un pareggio. Screening di massa invece, titolo d'apertura del Corriere Adriatico, edizione di Pesero. Pesero chiude dal 18 dicembre 2020, monitorate 61 mila persone, positivo allo 0,7%, Magnoni ringrazia la regione, Acquaroli dice serve cautela e poi sui test a docenti e studenti nelle scuole, la giunta regionale adesso pare che abbia un piano. Intanto la fotonotizia è per un business plan, un piano di rilancio nei prossimi 25 anni per il progetto HHS, per Marchini, ricavi per 6,2 milioni di euro. Poi il rilancio per i borghi marchigiani sono pronti 30 mila euro. Notizia in breve, quesito sul caschetto, Morani costretta a cancellare un post, lo vedremo tra poco, il caschetto non è quello delle terapie intensive, è quello del caschetto della parrucchiera, in qualche modo vedremo tra poco la Morani, sgamata anche da Dago Spia, che ha postato in una domenica pomeriggio, probabilmente dove non aveva molto da fare, un quesito, tenere i capelli col caschetto e i capelli lunghi. Questo vedremo tra poco con la fotografia pubblicata con un articolo di Silvia Sinibaldi sul Corriere Adriatico. Oggi riaprono i musei dei bronzi a Rossini, ossigeno anche alla cultura, poi qui di taglio basso il Fano che sfiora l'impresa Padova 1 a 1, la VL battuta in casa e poi la Lube che batte Perugia e vince la Coppa Italia. Allora, siamo gialli, siamo in zona gialla, così come gran parte dell'Italia, naturalmente ora il rischio qual è? Il rischio è del famoso assalto alla diligenza, ecco, cerchiamo invece di essere diligenti in qualche modo e di evitare l'assalto alla diligenza, il che significa, anche se adesso abbiamo la possibilità di fare colazione al bar, di andare a mangiare al ristorante a pranzo, ecco, di non fare l'assalto e di non complicarci le cose, anche perché non dimentichiamo che c'è un altro spauracchio del quale si parla, lo vedremo anche in una interessante intervista tra poco sul Corriere Adriatico, di questo Covid che ha tre varianti, non più una. Noi forse abbiamo memorizzato la più famosa, la prima che ha debuttato, che è la variante inglese, quella che abbiamo detto si diffonde con una velocità molto elevata, il 70-75% rispetto al virus madre. Ma ci sono altre due varianti, quella sudafricana e ce n'è un'altra ancora che mette ancora più paura ed è quella brasiliana, quindi attenzione a non fare troppo gli spavaldi come si suol dire. Allora, primo giorno fuori dall'arancione, questo è il titolo del Corriere Adriatico, ora puntiamo a superare la crisi, il Governatore Coroli dice abbiamo allo studio un documento da consegnare alla Conferenza delle Regioni, l'idea di partenza, affrontare questa fase con estrema cautela, ma facendo riaprire anche le attività. Qui nel Corriere Adriatico di questa mattina possiamo vedere, e lo fate anche voi magari da casa e guardando il televisore, cosa c'è rispetto alla zona arancione, quindi rispetto a ieri, che si può fare e cosa invece ancora è vietato. Per esempio dopo le 18 non si può andare a cena in un ristorante, si può fare solo l'asporto, vige ancora il coprifuoco dalle 22, però diciamo che per quanto riguarda gli spostamenti in zona gialla sono consentiti gli spostamenti tra comuni, vietati invece gli spostamenti tra regioni se non per comprovata necessità. E poi altre cose che troverete sul giornale di questa mattina. Il resto del cadino, l'Italia torna gialla, ma la folla non si tiene. Ecco, quello che vi dicevo prima, poco fa, l'assalto alla diligenza. Qui non c'è la diligenza, ma comunque c'è la voglia sicuramente di stare un po' fuori. Questa è la folla che si è riversata sui navigli di Milano. Molti giovani senza mascherina, sotto invece le vie del centro storico di Torino, prese d'assalto dalla gente. Speranza, il ministro avverte, così si torna indietro. A questo punto, se non è possibile fare diversamente, al posto dell'immunità di gregge, avremo il dolore di gregge. Facciamo così, ognuno poi si arrangerà. C'è più che dirlo, che si vuol fare? Poi se si ammalano e muoiono, questo è il problema. Perché di questo passo, se no, non torniamo a casa, non ne usciamo vivi in qualche modo. E quindi se questa è la fotografia che ci indica molto chiaramente qual è e cosa ci aspetta nei prossimi giorni, prendiamone atto e amen. Andiamo avanti. Quel che sarà, sarà. Gialli da oggi. Riaprono bar e ristoranti, ma poi non fateci richiudere di nuovo. E infatti questa è la questione. Perché da oggi siamo gialli, però se poi le cose vanno male, ci si richiude di nuovo. Ma richiudere di nuovo questo punto significa, per molti imprenditori, per molte persone che vivono con un'attività propria, significa la morte, significa proprio chiudere definitivamente. E questo creerebbe un enorme dramma. A questo punto mi domando quale potrebbe essere di nuovo la soluzione, visto che chiudere sarà poi impossibile. Non sarà possibile chiudere, certamente. Intanto, ma questo pare che siano notizie che arrivino da un altro pianeta, intanto ci sono 12 decessi. 12 decessi, uno anche nella provincia di Peso Urbino. Siamo a quota 808, però la curva dei contagi è in fase calante. Anche se, come vedremo, è una fase calante, ma molto lenta. C'è un'intervista invece che vi segnalo, a pagina 3, molto interessante, sul Corriere Adriatico, un'intervista al professor Andrea Giacometti, che è il direttore della clinica di malattie infettive degli ospedali riuniti di Ancona, che risponde alle domande di Maria Cristina Benedetti su argomenti molto interessanti. Allora, intanto sulla questione del ritorno in zona gialla, dice, siamo tornati in zona gialla, era attesa, sì, era attesa, era anche una speranza questo ritorno in zona gialla. Il discorso è molto semplice, non dobbiamo abbassare la guardia, dice il medico. Valgono quindi le solite avvertenze, attenti alle mascherine, che soprattutto sono da indossare bene, cioè sopra il naso, distanza di sicurezza e igienizzare le mani e poi la responsabilità che come sempre cade, ricade sulle persone, quindi su ciascuno di noi. Poi alla domanda si è ottimista, dice e risponde, lo sono perché non ho visto la seconda ondata trasformarsi nella terza. Osservo piuttosto un decremento molto lento. La curva pandemica, a che punto è del tracciato? E lui risponde, siamo in equilibrio, la traiettoria è quasi orizzontale con una minima inclinazione verso il basso e quindi ci vuole tanta pazienza. Ora, che cosa teme di più? Questa è la domanda alla quale risponde in questo modo. Che se non stiamo attenti possa arrivare questa maledetta mutazione, la definisce maledetta, soprattutto quella brasiliana. Perché? Perché sembra più diffusiva e potrebbe essere meno sensibile all'azione dei vaccini, degli anticorpi. Allora sì che potrebbe esserci la terza ondata. Mentre alla domanda si annullerebbe l'effetto della corsa al vaccino, lo risponde non proprio. I dati sicuri dicono che la variante inglese è abbastanza coperta, probabilmente lo è anche quella sudafricana, mentre, attenzione, su quella brasiliana ancora non ci sono informazioni. Sappiamo che a Manaus, nella capitale dello Stato di Amazonas, il virus ha già colpito oltre il 75% degli abitanti. È pur vero che in questi luoghi le condizioni sanitarie sono strane, cioè sono diverse dalle nostre. Invece di strano che cosa c'è? C'è questo, anche questo interessante. Il contagio è strano, attenzione alle parole, il contagio è strano. In che senso è strano? Nel mio reparto, dice il medico, il professore Andrea Giacometti, sono arrivati pazienti che hanno giurato di aver vissuto segregati e di essersi fatti consegnare la spesa a casa una o due volte alla settimana. Nonostante ciò si sono ammalati. Dunque qualcosa ci sfugge. Oppure anche una minima disattenzione può essere fatale. Io sarei più per la seconda. Chiaramente, essendo il virus qualcosa che tu non puoi vedere, non puoi gestire, potrebbe essere ovunque. Quindi la disattenzione, secondo me, è la giustificazione più reale. Uno sopra pensiero, se si potesse riprendere con una telecamera 24 ore, rivedere tutti i gesti che uno ha fatto in automatico, senza pensarci. Quindi pensate quante volte inadvertitamente mettiamo un dito nell'occhio perché magari ci dà fastidio, oppure mettiamo in bocca la mano, addirittura molti ancora queste unghie che si mangiano come se fossero delle noccioline. Tutte cose che noi facciamo in automatico senza pensarci. E ovviamente lì entra il virus e uno poi può stare in casa tutto il giorno e farsi passare alla spesa, ma se poi nella spesa arriva magari nella busta del latte, toccandola, possono essere tante cose. Ora, c'è un'altra domanda invece interessante sulla quale risponde a proposito di un lockdown più selettivo, cioè che riguardi soltanto gli anziani. Quante volte ci siamo detti? Beh, insomma, visto che colpisce gli anziani, ripariamo gli anziani, ripariamo loro, mettiamoli come dire a casa o nelle strutture senza dare loro la possibilità di essere a contatto con l'esterno. Questa è la risposta. Non è praticabile questo lockdown selettivo degli anziani. Perché, secondo lui? Perché sono proprio loro i soggetti che hanno più necessità di visite e di essere assistiti. Non possono essere lasciati soli, non devono essere isolati, anche qualora siano autosufficienti e vivono una condizione di normalità. Rischierebbero infatti l'insorgenza di stati di depressione, quindi stati depressivi che a volte sono il preludio di un progressivo poi deterioramento cognitivo. Ecco, quindi come vedete parliamo sempre di persone comunque che hanno fragilità. E poi ci sono tante altre domande interessanti che troverete sulla pagina, a pagina 3 del Corriere Adriatico di oggi. Intanto su Urbino, sempre il Corriere, ossigeno giallo, i ristoranti respirano aperti anche a pranzo, bene ma non basta. C'è chi è chiuso scartando subito asporto o delivery e chi si è rinventato invece producendo panettoni. E ancora sulla voglia di libertà, la voglia di tornare a fare le cose di prima, di sempre, c'è questa immagine, anzi sono due le immagini eloquenti che ci fanno capire un po' come sono andate le cose nella giornata di ieri. Qui siamo sul Monte Nerone, due scatti fotografici della ciaspolata di 15 giorni fa, sempre in cima al Monte Nerone, e a destra invece la guida naturalistica Gianluca Dormicchi, sconcertato da quanto accaduto. I vigili urbani hanno bloccato i ciaspolatori, un gruppo in marcia verso il Nerone, controllato dalla municipale e avvertito anche del rischio multe e poi c'è stata questa fuga generale. C'è un racconto che troverete, una notizia che troverete questa mattina sul resto del Carlino, la guida dice vietare di fare attività sportiva in cima al monte è inconcepibile. Anche qui chiaramente immagino la distanza di sicurezza sia stata rispettata, guardate soltanto questa immagine al centro, potete vedere da solo, immagino anche quanti di voi vorrebbero essere lì in questo momento, ma comunque le distanze di sicurezza sicuramente erano state rispettate. Però è arrivata la Polizia Municipale e poi fuggi, fuggi per evitare la multa. Attenti, siamo di nuovo sul Carlino di Pesaro, 2.500 persone infettanti in provincia. Carlotti dell'Asur dice sono questi i numeri se proiettati sull'intero territorio. Finito lo screening di massa, iniziato a dicembre, il risultato è di 7 positivi su 1.000. E anche qui si snocciolano molti numeri, i numeri su 61.657 cittadini testati, 436 sono i positivi emersi. Dunque ecco il numero, quel famoso 0,7%, ovvero 7 persone su 1.000. Sul fatto che sia una percentuale alta o bassa dipende da come la si giudica. Di certo possiamo dire che è una percentuale riscontrata anche in altre province di Italia, dice appunto la persona intervistata, Carlotti, intervistata in questo articolo sul resto del Carlino. Poi c'è invece la possibilità di continuare a fare questi test. Se uno ha qualche dubbio, se uno deve fare qualche cosa, ha necessità di farsi fare un test rapido, costano 15 euro, si possono fare in farmacia. Sono test rapidi, come abbiamo già detto, e Pieri, che è il presidente di Aspes e vice di Assofarm, lancia questa proposta alla Regione che dovrebbe solo ampliare l'accordo che c'è già sui sierologici. Quindi da oggi in Emilia Romagna tutti i cittadini che possono fare il tampone rapido in farmacia e senza ricetta medica pagando 15 euro, l'idea è quella di farlo anche da noi. Però io poi ho visto dei cartelli esposti fuori dalle farmacie dove c'è la possibilità anche da noi, ho visto, di farli. Quindi uno si prenota e fa il test rapido. Sui tamponi invece agli studenti, adesso la Regione ci sta pensando. Dopo il battibecco tra Saltamartini e Ricci sul fatto che il Comune di Pesero è andato avanti un po' per la sua strada e ha fatto con i propri mezzi questo screening a tutti gli studenti e operatori della scuola, delle scuole pesaresi, adesso la Regione sta pensando di fare altrettanto su scala più grande. La scuola è il grande spreco delle mascherine mutande, invece questo è il titolo del Corriere a pagina 5. Quali sono le mascherine mutande? Chi ha i figli che vanno a scuola e fanno gli elementari sicuramente le hanno viste, sa di cosa sto parlando. Sono delle mascherine uscene che hanno inviato, hanno comprato nelle marche 33,8 milioni. L'ultima distribuzione è venuta qualche giorno fa, gli studenti però non le indossano perché sono veramente improponibili, sembrano veramente delle mutande che si mettono in bocca, in faccia davanti al viso e quindi nessuno le indossa. Però le hanno comprate, 33,8 milioni di mascherine, difficile da tenere tra l'altro anche per molte ore nella classe e quindi al solito cosa servono? A niente, quindi soldi buttati, soldi sprecati. 1 miliardo 255 milioni queste mascherine mutande consegnate nelle scuole italiane. 1 miliardo 255 milioni buttati nel cestino. Ora, abbiamo parlato tante volte del dolore, dello sconforto di coloro che vengono ricoverati in ospedale, dei familiari che vorrebbero essere lì, stringergli la mano, parlare con loro, mandare messaggi, una carezza e quant'altro. E purtroppo tutto questo ormai da un anno non è più possibile. Però c'è un sacerdote che invece, lo vedete nella fotografia che pubblica il giornale Il Carlino questa mattina, si chiama Don Juan Carlos Munoz Caceres, che è intenuta anticontagio, vedete tutto coperto, e che continua a fare il cappellano dell'ospedale all'interno del Covid Hospital, cioè di quel famoso dell'astronave di Civitanova Marche. Non solo per portare l'Eucarestia, non solo per confessare le persone, oppure dare loro un'unzione degli infermi, ma anche per farsi portavoce di abbracce e carezze e messaggi d'amore da parte dei familiari. Pensate, ecco, questa è una cosa molto bella che vale la pena sottolineare questa mattina. E quando dice come mai è successo, dice nella prima, perché lì? Lui dice nella prima ondata mi sentivo, mi sentivo così impotente, non potevo fare niente. Quindi durante la prima ondata il parroco è rimasto fermo, come tutti i parroci, a parte qualche eroe. Nella seconda ondata invece ha detto aspetta un po', vediamo un po' che cosa si può fare. La direzione sanitaria ha chiesto al sacerdote se voleva fare questa cosa, il sacerdote ha risposto di sì, d'accordo con la diocesi e quindi adesso è dentro, in corsia e fa questa bella cosa qua. Ora non so se ce ne sono altri di sacerdoti nei vari tipo a Pesero piuttosto che in altre situazioni, però se non ci fossero, ecco, non bisognerebbe inventarli, ma bisognerebbe trovarli in qualche modo e magari far sì che anche da noi, nei nostri Covid Hospital, ci siano queste figure molto importanti, di grande aiuto, di grande supporto. Invece il progetto dell'assessore Saltamartini, assessore regionale, per quanto riguarda l'ospedale di Torrette è un progetto interessante. Saltamartini dice riportiamo scienziati luminari a Torrette, deve diventare un ospedale d'eccellenza. Saltamartini che dunque svela questo progetto per l'ospedale regionale e all'Inca dice tornerà l'asset Italia Longeva con Roberto Bernabei. L'obiettivo non può essere un mercato, non ci deve essere tutto, ma il meglio per questo va sprovincializzato. Insomma c'è un'intervista che Pierfrancesco Curzi ha realizzato all'assessore regionale che ha questa visione, a proposito del Torrette, del farlo ritornare. A parte che già Torrette è un'eccellenza, perché su certe cose davvero siamo avanti. Ecco, però evidentemente su altri reparti vorrebbe puntare e spingere di più. Andiamo sulla pagina del Corriere Adriatico invece, perché c'è questa notizia che riguarda il coprifuoco violato. Non sono pochi quelli che nonostante ci sia il coprifuoco alle 10 di sera continuano ad andare a fare come se nulla fosse, ad andare fuori anche solo per una passeggiata, come si evince dal titolo di questa mattina. Sanzione ad una coppietta e a due amici scovati dalla polizia in via Solferino e in via Flaminia, quattro verbali per 1.600 euro di multa. Ora, le multe ci sono, i controlli ci sono, i verbali vengono scritti, però le casse rimangono quasi sempre vuote. Nel senso che sono in tanti che non pagano queste multe, forse perché pensano che un giorno prima o poi faranno ricorso in qualche modo o ci sia qualche via di uscita strategica. Andiamo sulla pagina di Fano del Corriere Adriatico. Si parla degli sposalizi, dei matrimoni in tempo di Covid. Molti lo hanno posticipato, saltano tre nozze su quattro praticamente e sposarsi in spiaggia costerà 1.000 euro. Riti civili religiosi frenati nel 2020. Il Comune intanto ha stabilito le nuove location con tariffe variabili e naturalmente anche i divieti. I matrimoni, inutile dirlo, sono calati a picco nel 2020 con l'impossibilità di festeggiare come da tradizione uno dei giorni più belli della vita. Quindi insomma molti di questi matrimoni verranno posticipati al 2021 o forse 2022. Ecco la polemica, ecco la fotografia di cui parlavo all'inizio della nostra rassegna stampa. Lei è la deputata del Partito Democratico Alessia Morani in versione contemporanea con caschetto, mascherine e guanti in lattice e poi con il cappello corvino. Il cappello corvino lungo in una immagine di qualche anno fa. Ora c'è un articolo che vi invito a leggere di Silvia Sinimbaldi, questa mattina piuttosto pepato, dove appunto leggi giustizia, così viene definita, ha lanciato ieri attraverso un social nella sua pagina la domanda se è meglio stare con i capelli lunghi oppure col caschetto. Chiaramente lei forse si aspettava tante persone che in maniera educata le rispondessero in un modo o nell'altro, invece l'hanno praticamente caricata a picco, come si dice, e l'hanno insultata. Tant'è che poi è stata costretta a togliere questo post con queste foto e quindi a far finta di niente. Però Dagospia che ha fatto lo screenshot del suo messaggio, poi ci ha ricamato sopra e ci ha fatto un pezzo che vi invito a leggere, se uno lo vuole leggere, insomma, sul Corriere Adriatico. Andiamo avanti. Fano Grosseto, progetto costato un milione e mezzo e chiuso in un armadio dopo l'approvazione. Lo scandalo dei soldi pubblici pagati da ANAS, anche il Ministero dell'Ambiente, diede il via libera definitiva all'opera, ma Ancona fermò tutto. Questo è un modellino della Fano Grosseto con l'attraversamento di Bivio Borzaga e dalla bretella per Urbino furono spesi tanti soldi, un milione e mezzo, anche qui, buttati al vento. Sulla variante invece di Gimarra di Fano, meglio archiviarla, dice Stefano Aguzzi, ex sindaco di Fano, oggi assessore regionale, che boccia questo progetto della variante di Gimarra, costa troppo, dice, crea forti contrapposizioni, il vero obiettivo deve essere il casellino di Fano Nord, quindi quello di Fenile. Il Comune ha commissionato uno studio di fattibilità per Gimarra e poi il dipinto, sparito 50 anni fa, finisce su chi l'ha visto, a San Costanzo appello alla trasmissione per la Madonna del Divino Amore attribuita a Sebastiano Ceccarini, pittore fanese del Settecento. Aguzzi invece, Ricci, stia calmo, basta scontri, continui duelli con la regione, l'assessore contro il sindaco, mania di protagonismo, serve collaborazione e da parte nostra, da parte nostra, dice, ci sarà. Mentre la crisi dei negozi, tra saldi e affittasi, arzini della Confcommercio, c'è poca voglia e anche poca possibilità di acquistare. Sotto invece, anzi no, sull'altra pagina di Vallefoglia, otto proposte e 5.080 no, ridisegnano il biodigestore a Vallefoglia, diversamente raccoglie firme, il Movimento 5 Stelle conferma i paletti su dimensioni e investimenti, si parla di questo biodigestore di Vallefoglia, tra l'altro questa sera, ricordo, ci sarà il sindaco di Vallefoglia, Palmiro Occhielli, in diretta su Fano TV, subito dopo il telegiornale, e poi ancora dai giornali Valcesano, da oggi, ho detto questa sera dopo il telegiornale, sì, da oggi si può andare per i musei, riaprono i tesori della provincia, Pergola con i suoi bronzi, la Rocca di Mondavio, i civici e il Rossini a Pesaro e anche la Pinacoteca di Fossombrone, che riaprono dunque per chi vuole, per chi vuole. Poi screening nelle scuole laurentine, domani test per insegnanti e ragazze in personale delle sei classi in quarantena, dunque domani fervono i preparativi per questo screening gratuito delle scuole di San Lorenzo in campo. A Senigallia, al Suini saluta la rianimazione, adesso l'impegno sarà solo da consigliere comunale, poi il collegio pergolese in lacrime, Covid shock, fratello Tito si è arreso, il superiore della congregazione è morto all'ospedale Urbani. Lo sport invece, l'Ube sul trono, la regina non abdica, l'Ube Civitanova che vince contro Perugia 3 a 1, dunque campione d'Italia. Meraviglia Fano invece, Fano che pareggia Padova 1 a 1 ad un passo dal colpaccio, Vuel invece che perde in casa 65 a 78, dal sogno all'incubo in 7 minuti, e infine Telegram, passando dallo sport a Telegram che sgambetta Whatsapp, passate con noi e terrete le chat, quindi c'è questa possibilità. È tutto, grazie per averci seguito, usate ancora Whatsapp per comunicare con noi, se avete segnalazioni, ci vediamo stasera alle 20.30 con occhio alla notizia, il telegiornale, arrivederci.